Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo, passate su fifacoin.com E con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto SBO- Bella vecchi travali, siamo tornati finalmente con un nuovo video di FIFA 16 E oggi siamo qui subito, incredibile per provare La draft, la modalità draft di Ultimate Team Praticamente cosa consiste, da quello che ho capito, se ho capito bene Tu scegli un modulo, dopodiché tu giochi contro un altro giocatore E dovete, sicuramente si scelgono i giocatori in pratica Quindi io voglio fare un 4-3-3 Posso Quindi adesso dobbiamo scegli i giocatori Scegli un capitano Però a TT magari poi potrebbe succedere che il capitano avessi dopo Oppure... Ah, dobbiamo fare così Oh, vabbè io metterei un lavezzi Dobbiamo fare, intesa con Suarez Anche AS questo qua, ci mettiamo Con piatti Ci mettiamo piatti, assolutamente Partiamo dal portiere, che è meglio Portiere Portiere e io... Io metterei Moya Cioè stiamo a fare tutta l'aliga in pratica Allora, DC Vediamo, vediamo, vediamo Tocca metto Otamendi TS Bam Moreno No, Alba C'è sta Alba Vai Tertino destro Vai 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 De Marcos Oh, Florenzi hanno messo terzino quest'anno Da paura È facile col DC Vabbè se fanno tutta l'aliga in pratica Abbiamo capito Vediamo, vediamo Beh, va lan Ok, qua prendiamo Qua che metti? Tu la lan Dai che schifo, manco uno della cosa A sto punto mettiamo tu la lan Se poi lo facciamo male, lo facciamo male bene 80 dinti, però lo facciamo mesi Bella merda Ti sostituti pure devi scegli Oh, figata Vabbè da paura, cioè, allora fammi cambiar voi Bravo Metti bravo e, scusa, metti bravo e E poi lo cambiamo Esatto Ok Poi vediamo qua C'è sta Savic Vediamo ancora Ah, ah, ah Ah, la batte, cdc, pia Ma buba Poi Vai con questo Cristiano Ronaldo, dai Vai, dai, un Cristiano Ronaldo Falcao Falcao Cioè Senza, senza, Riccardi Benteche Dai Benteche Riccardi Benteche Ma volevo vedere come Riccardi Vaffanculo Scialla Un'altra volta song Ne credo Ne credo Maxo, il Gabbiadini Va bene, C.O.C. Vai, Gabbiadini Poi Cavani E poi E poi vediamo Dai, l'ultimo, David Luiz A posto Adesso facciamo Onesto Ah, ma non c'è Non è online Ah, vabbè, però proviamola così Contro il Seattle Sounders Vai No, no Corsidi, io c'è Sterling Ok, si comincia Parte il draft Oh, Varan Varan Mandalo Oh, ma che è? Ma che cazzo? No, vabbè, regà, è buggato Cioè, ma che cosa hanno fatto? Ma che cross era quello? Che cosa? Mi chiedono i piatti Mamma mia Chiedi i piatti proprio Vabbè, i piatti continuano a confondere con Messi Vai, vai, vai Oh, i piatti Vai Ah, no, Roberto 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 Roberto, la mina sotto Oh, 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 oh Cioè, mi guardi sotto prima Non ti lo spetti No, no Sembra che hai sbagliato Scusate, vai verso l'altro Wow Che secca rara che ha tirato Oh, 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 oh Mamma mia Moier Moier Ma perché? Come fanno a fare questi cross de Cristo? Si fa una canna Mi sa che questo qua sarà tipo il leitmotiv Dei fasi di 16 Cioè, questi cross così E chi? È la magna Ma che è? Ma da, ma che è? Ma quando giocano i ragazzini Che tirano arte E ci arriva i portieri Silva che è pure mancino Guarda, guarda E ci arriva il portiere Ma ha tirato come la donna Contro la fisica Ha tirato come la donna Dell'altro video Suarez Suarez E tiro No, da Ma dai Però il nostro non la para, capito? Messi è partito sulla fascia Qualcao Guardano Messi No, no, no Eh, lo so Purtroppo adoro Oh, eh, fuori già Oh, ah, Lam Philippe 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 Oh 2 a 2 U 2 a 2 2 a 2 per loro Partita Draft foot 2 a 2 Messi Messi L'accelerazione Messi Messi Falcao La guidiamo Messi 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 No No Mancava una persona Tu madre Guarda, ma andiamo a perdere Complimenti Complimenti Ma non c'entro io Perché Potevamo stare due noi Ma va il fatturo Scatta? Vabbè, segna Ok, ok Però almeno segna Ma che c'entro io Se è storto E poi Ma quanti potrei avvicinare Altri tre metri No, perché me la piava Avevo un allontato Messi Non sa più che fare Lo tira Oh Che gol Guarda che figata Tutta la tua Manda baci Yeah Tu la lan Falcao Fa segna a Falcao È partito Falcao È buona Guarda, ti vengo dietro Ti vengo dietro Famolo Mamma un bel gol Porca troia Falcao Bestia 4 a 3 Che partita Eccolo ancora Falcao Suarez Suarez Manca solo lui all'appello Suarez Suarez Dai Messi non lo sposta Nel Suarez Si Dai un po' però Zelf Entralo Zelf Mortacci Vabbè dai Portiere però sta immobile Dai Era meglio No Si A meno che ho preso Solo un gol Con lui Con quarte Forse di reagire Ok, questo è il cambio Ma non c'abbiamo cambi Zio Forse di reagire Come cominciano a riessere forti Con questo FIFA Ricordi Con le pifere Che insegnavi sempre A giro FIFA Oh Messi Chi ha del cambio Segna Tuttato proprio Questo ping pong È fantastico Era pure per quelle mani Se ne va In giustizia 5 a 4 Per il draft team Fantastici Sergi Roberto Migliore in campo 8.4 Chi ha Chi ha consigliato Eh Una rete per Messi Una per Falcao Una per Roberto Una per Lamme E una de Company Che cazzo era Non avevo idea Roberto 11 Passaggi completati su 14 Messi non ha fatto manco un passaggio No ha fatto uno Se ne è questa del merda C'è un cazzo da fare 7 su 7 Falcao Pi Messi E non proprio c'è Zero Non passi mai Oh Falcao 7 dribbling su 7 Falcao è una bestia Cross Con Con strati vinti Con strati vinti Parate Una E sono quattro E forma fisica Sì Non so cosa sia Avanza Alla prossima partita Che ci sarà un altro giorno Perché oggi è finita 5 a 4 Per noi Ragazzi se questo video è piaciuto Lasciate un like E come sempre Ci becchiamo Al prossimo video Da Granasi È tutto E bella